Ciao, benvenuti in questo nuovo video dedicato al volantino dell'IDL. Queste sono le offerte che inizieranno il 12 agosto e dureranno fino al 18 agosto e ci sarà lo speciale ferragosto, ovviamente. Vediamo subito le prime offerte che si presentano nella pagina principale. Ovviamente ci sarà sempre il Parkside che non manca mai. Carne, tè. Grazie a tutti. 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 Buonissimo. Buonissimo. Grazie a tutti. 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 italiamo da lunedì quindi tutte specialità appunto italiane vediamo un po che cosa c'è fritto misto le friselle prezzi secondo me sempre ottimi tomino con spec vediamo in quest'altra pagina c'è il caso cavallo questi sono una novità i ciccioli croccanti e e e e e e e e i i i i da giovedì invece queste qui sono le offerte che troviamo ci sono le sfoglie gran merenda biscotti follini che belli questi biscotti dei puffi carinissimi poi yogurt di capra latte intero le spuntine plum cake vediamo in quest'altra pagina gudi cacao c'è il miele il cornetto al pistacchio questa è una novità mi sa tanto lo metteranno comunque lunedì poi ci sono i donuts la crema di mandorle quella al limone oppure all'arancia la confettura questi che sono senza glutine anche questi qui plum cake all'albicocca poi metteranno il kraften con crema a 55 centesimi le conchiglie alla mela che a me piaceva tantissimo a 89 centesimi già intravedo il parkside allora pollice verde le piante che metteranno lunedì ci sono le palme e varie succulente a 3 euro e 49 mentre da giovedì metteranno diverse piante verdi e le aster a 1 euro e 99 vediamo un po le offerte parkside come sempre adesso io farò una carrellata ti mostrerò tutte le varie cosine con i relativi prezzi non mi soffermo più di tanto quindi in questa sezione che procedo velocemente devo dire che questa settimana è dedicata tantissimo al parkside rispetto alle scorse volte perché rispetto alle altre volte ci sono molti più oggetti e Grazie a tutti. Ed eccoci qui le offerte che inizieranno giovedì dedicate al bagno, c'è il mobiletto, sotto lavabo, ottimi prezzi comunque, anche questo qui l'armadio a colonna, mi sa tanto che come colorazioni sono disponibili solo in bianco, qui ci sono altre offerte, è bello questo tappeto, c'è anche rosa. Poi qui c'è la spazzola, set di pennelli, c'è anche lo specchio che si illumina per il trucco, vediamo qui il rasoio, set manicure pedicure ricaricabile, l'asciugacapelli agli ioni, ottimo il prezzo, poi qui lima per manicure pedicure, tagliacapelli, spazzolino elettrico, idropulsore e poi qui della skitchers ci sono i calzini o fantasmini unisex, ottimo il prezzo. Poi proseguiamo, c'è il frullatore ad immersione a 20 euro, questo c'è scritto anche qui, è ottimo quindi ve lo consiglio sempre quando lo mettono di acquistarlo, perché è davvero valido, anche il treta tutto elettrico che io ho, poi rimettono la frigitrice ad aria calda con 20 euro in meno rispetto al prezzo che ha solitamente, poi qui c'è la padella, contenitori, c'è anche la lampada, sotto pensile, poi in silicona, vediamo qui in basso la pellicola, vasetti per le conserve, e poi diverse cose della Vileda a 1,49 euro. Ah, abbiamo finito, sono quindi solo queste qui le offerte, siamo arrivati al super weekend, inizierà il 16 agosto e durerà fino al 18 agosto, ci sono le pesche, i pomodori a grappolo, l'hamburger di tacchino, il prosciutto, i pistacchi, la coca cola, e poi qui troviamo polo da uomo a 5 euro, vestito e lino da donna a 7 euro, e queste qui a 10 euro. E ok, quindi queste qui sono tutte le nuove offerte che inizieranno questa settimana. Come sempre spero che questo video vi sia stato utile, pollice in su se non lo avete ancora messo, e spero di rivedervi ovviamente anche in un mio prossimo video. Ciao!